Buona serata a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale, iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace se il video sarà di vostro gradimento. Finalmente ci siamo, l'avevo già detto nei video precedenti ma ora è ufficiale, domani e non oggi, purtroppo non questa sera, torna il nostro Yannick Sinner impegnato nel primo turno del 500 di alle contro Tallon Grigsburg. Abbiamo un orario, indicativamente il match inizierà alle 13.20, prima giocherà Rublev sullo stesso campo di Yannick, quindi ipotizzo che si inizierà intorno alle ore 14 circa, orario che purtroppo non mi permetterà di seguire con voi in diretta la contesa, a meno che non ci siano dei ritardi che si inizi dopo e il tutto coincida con l'orario in cui finisco di lavorare, allora sarò della partita anch'io, altrimenti ci diamo appuntamento, come già ci eravamo detti, per i prossimi turni, augurandoci che Sinner possa proseguire. È una partenza di alle con il botto perché ci sono già i primi verdetti, i primi risultati dei match che erano in programma oggi, primo turno che è sfalmato su più giorni, addirittura ho visto che Luciano Darderi, ditelo come preferite, è in programma nella giornata di mercoledì contro il tedesco Strouf, non so se sia un errore del sistema ma ad oggi è calendarizzato per mercoledì. Andiamo a leggere i risultati di oggi perché abbiamo già delle buone sorprese, delle novità che anche interessano da vicino il nostro Yannick Sinner. Il primo match è stato tra Auger alias Sim, il canadese, contro il tedesco Koffer. Sulla carta ha favorito il canadese e invece il primo set l'ha portato a casa Koffer, il secondo ha visto il ritiro di Auger alias Sim. Quindi un ritiro per il canadese che fa accedere al turno successivo il tedesco, quindi già uno dei ipotetici protagonisti eliminato. Poi una buona notizia perché il nostro portacolori azzurro Lorenzo Sonego ha regolato con due tiebreak in due set il serbo Kecmanovic più quotato di lui, un'ottima performance di Lorenzo Sonego, mi sono recuperato gli highlights prima e devo dire che Lorenzo ha messo in campo il suo tennis migliore, una partita molto tirata, chiuso appunto con due tiebreak, bene così per Sonego che ha bisogno di un'iniezione di fiducia dopo il cambio d'allenatore, dopo una stagione sulla terra con più ombre che luci, quindi bene così per Lorenzo che accede al turno successivo con vista ipoteticamente Alexander Zverev che sarà impegnato domani nel suo primo turno, se non sbaglio, contro il tedesco Oth. Successivamente abbiamo un altro match, ovvero tra il tedesco Hofner e il cinese Zhang, terminato in tre set con la vittoria per 2-1 del cinese Zhang, quindi qui nessuna sorpresa. Abbiamo poi Medvedev che è uno dei favoriti sicuramente per la vittoria finale che ha regolato il portoghese Borg in due set. Il nostro Flavio Cobolli sta giocando in questo momento contro il polacco Ibi Urkrac, il primo set è terminato 7-5 per Urkrac. Sono poche le possibilità per Flavio, staremo a vedere, mi auguro che quando metterò giù questo video, chiuderò questo video, il buon Cobolli abbia rimontato, però diciamo che se tutto va da pronostico sarà Ibi Urkrac da prodare al secondo turno che sono gli ottavi di finale. Però il match più interessante di giornata era quello tra l'ungherese Marozan e il russo Safiolin. Voi direte perché il match più interessante visto che sulla carta sono due tennisti che non rubano l'occhio, non attirano troppo l'attenzione, beh il motivo è presto detto, semplicemente perché il vincente di questo match sarà l'avversario del vincente del match che si terrà domani tra il nostro Yannick Sinner e Tallon Grigspur. Ora non va assolutamente sottovalutato l'avversario Grigspur che secondo me è un avversario molto più quotato dell'ipotetico avversario che poi andrà a affrontare Sinner agli ottavi di finale. In questo caso si tratta di Marozan che ha battuto in 3 set per 2-1 punto Safiolin. Un Marozan che mi ha fatto una bella impressione, sono andato a guardarmi gli highlights quindi non posso avere un giudizio e darvi un giudizio troppo veritiero perché gli highlights lasciano il tempo che trovano però Marozan è un tennista che a me piace, che si sa adattare un po' su tutte le superfici però Grigspur secondo me che l'avversario appunto di Yannick di domani è uno scalino in più e per Sinner sarà un bel banco di prova come esordio da, ricordiamolo, numero uno del ranking e l'esordio sull'erba, la stagione sull'erba. Sinner probabilmente ad oggi è più avvezzo al veloce ma secondo me sulla terra ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza della situazione. Certo è che il match di domani contro Grigspur rappresenta un battesimo di fuoco per il nostro Yannick che avendo il numero uno cucito sul petto ha una responsabilità in più sicuramente, Yannick non si è mai tirato indietro quindi non mi spaventa il fatto che lui sia numero uno, non credo che lui scenderà in campo con questo pallino, non è proprio la persona che può portarsi dietro un fardello simile. Vedo più altri tennisti avere questa, diciamo, non dico difficoltà nel portare il ranking però di sicuro non è un problema di Sinner e vi dirò di più. Uno che arriva numero uno del mondo è perché lo ha meritato e non gli tremeranno mai le gambe. Quindi da questo punto di vista sono molto tranquillo. Certo è che a volte i pronostici sono fatti per essere smentiti quindi non andiamo a sottovalutare l'impegno di domani di Yannick contro un avversario che è vero che nei precedenti ha un secco 4-0 per Sinner però è sempre l'esordio di un nuovo torneo, un torneo sull'erba, una nuova superficie. Quindi ecco ci sono varie incognite che vanno tutte canalizzate in un'unica direzione. La vittoria di Yannick Sinner. Sappiamo già il nome del suo avversario che sarà l'ungherese Marozan. Quindi ecco abbiamo un quadro completo, un quadro definito di quello che potrà essere il percorso di Sinner con degli ipotetici quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Non mi dispiacerebbe un incontro contro Tsitsipas per diciamo prenderci una piccola rivincita. È vero che l'Aeron 1000 a Monte Carlo però insomma dopo quello che era accaduto non mi dispiacerebbe. Tsitsipas sta affrontando un momento un po' turbolento perché Extracampo sta avendo un po' delle vicissitudini con il suo staff, dichiarazioni un po' diciamo incandescenti ma lasciamo agli altri le questioni che a noi non riguardano. Quindi ecco domani ci sarà anche Berrettini contro Michelson, lo statunitense. Sono molti i motivi di interesse per questo torneo che non dimentichiamolo. È un torneo di preparazione in vista del vero torneo dello slam di Wimbledon dove questa volta non mi voglio sbilanciare perché in quel de Roland Garros senza paura avevo pronosticato Sinner vincitore, mi sono anche esposto alle critiche, giusto così. Questa volta diciamo per scaramanzia anche se non mi reputo un tipo scaramantico non voglio sbilanciarmi in pronostici. Certo è che metto come obiettivo minimo per il nostro Yannick la semifinale di Wimbledon. Voi mi chiederete quindi se verrà eliminato prima sarà un fallimento? Dipende come. Dipende come e sarà da valutare, da giudicare. Non mi sono mai tirato indietro nel criticare Sinner se necessario. Ad oggi non ho mai trovato un motivo valido per porgli una critica degna di tale nome quindi attendiamo di vedere intanto Halle, poi Wimbledon, poi Bastard e poi le Olimpiadi. Vi ricordo che per domani la finestra della mia diretta non è del tutto chiusa perché ripeto se per caso il match di Rublev si prolunga, magari inizia alle 4, Sinnero alle 3 e mezza, torno dal lavoro e sono al terzo set mi collego. Quindi voi state sintonizzati sul mio canale, in caso vi aggiorno faccio magari un post oppure un video breve, uno short per ricordarvelo e insomma nella speranza che sia solo un passaggio questo torneo, questo match, scusate non questo torneo, questa partita per appunto andarci a vivere un weekend magari con una finale dove lì sicuramente sarei in diretta. Detto questo noi ci vediamo in un prossimo video, auguro a tutti voi una buona serata e ci vediamo presto. Ciao a tutti!